Uno scambio di persona, probabilmente dovuto a un'omonimia, che potrebbe risolversi in tragedia. Alle 9 e un quarto di questa mattina, in prossimità dell'ingresso del nuovo ospedale della Murgia ad Altamura, un'auto di colore scuro con due uomini a bordo si è avvicinata a un uomo con il braccio ingessato che si stava recando nella struttura per un controllo e ha esploso un colpo diretto verso il torace di quest'ultimo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Altamura intervenuti sul posto, i due uomini avrebbero chiesto alla vittima, un carpentiere altamurano di 56 anni, il suo nome. L'uomo non avrebbe fatto in tempo a dichiarare che non era la persona che stavano cercando, che uno dei due ha aperto il fuoco ferendola gravemente con una pistola calibro .45. Pochi secondi dopo i due sicari si sono dati alla fuga. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso, mentre l'uomo è stato ricoverato nella stessa struttura dove è stato sottoposto a un'operazione urgente. Grazie a tutti!